Allora, caro Pietro, dove stiamo andando? Andiamo a fare uno mangiato con Eliane, poi il resto vediamo. Allora, caro Pietro, dove stiamo andando? 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 Noi oggi non abbiamo la partita, ma stiamo in canzina. Allora, caro Pietro, dove stiamo andando? Allora, caro Pietro, dove stiamo andando? Allora, caro Pietro, dove stiamo andando? No, se canta male, non la caricate in pulma per i miei. Però Marta, se vuoi che ti portiamo via noi domani, dai parti allora. Si se vuoi! Si se vuoi! Si se vuoi! Sì! 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 Sì!